Che noi non usiamo più piatti di plastica, bicchini di plastica, proprio per non avere inquinamento al mare e anche per risparmiare soldi, perché tanto sono uno spreco di soldi. Basta un goccino di detersivo e si lavano i piatti dal mare. Il detersivo è più degradato. Certo, è inutile utilizzare la plastica, perché facciamo solo inquinamento e basta.